Erano in tanti in piazza Santa Croce a Firenze a salutare Davide Astori, un calciatore, un padre, un uomo generoso che ha incarnato nello sport valori positivi. In chiesa, dove ci sono i familiari, non entrano le telecamere, ma la voce del cardinale Giuseppe Vettori giunge anche nella piazza per dire che di fronte alla morte improvvisa per arresto cardiaco di un ragazzo di 31 anni non ci sono spiegazioni. La sua vita spezzata da un male misterioso richiami tutti noi a prenderci cura della vita degli altri, soprattutto dei più deboli. La vita dell'uomo, dice Vettori, non si realizza nell'indipendenza ma nelle relazioni. Nell'abbraccio grande portato a Firenze da migliaia di persone dice quanto Astori abbia saputo costruire relazioni autentiche in un mondo, quello sportivo, che di autenticità ha tanto bisogno. Insieme alla Fiorentina e ai suoi tifosi, al funerale del capitano Viola c'è il mondo del calcio, tutti accolti con applausi. Non ci sono divisioni oggi, ma all'omaggio a un ragazzo che tutti amavano.